L'alba sta sorgendo, salutate il nuovo giorno. Ormai due anni e mezzo fa, forse anche di più, feci un video su come acquistare legalmente il testosterone online. E in tutto questo tempo, anche quando nei video giocavo solo a Dark Souls e non facevo più video sull'argomento, ho comunque continuato a ricevere su Instagram messaggi su messaggi in cui le persone mi chiedevano consiglio su questa cosa. Ad oggi il metodo è un pochino diverso, non tanto, per cui voglio fare un piccolo update sulla cosa. Ma prima di tutto dobbiamo chiederci perché non seguire semplicemente i canali tradizionali, cioè andare dal proprio medrico o da uno specialista e bla bla bla, semplicemente perché in Italia è quasi impossibile. Chiunque uomo in Italia abbia voluto cercare di avere una prescrizione per il testosterone perché soffre di questo o quest'altro problema sa benissimo quanto può essere frustrante la situazione nel nostro paese. C'è un muro assoluto sulla cosa. Prima di tutto, la maggior parte dei medici non ti prescriverà mai testosterone. Se poi te lo prescrivono, te lo prescrivono sempre con dosi o frequenze sballatissime, insensate, senza motivo. Chi dici boh perché fanno così, non ne idea. In più si ha sempre a che fare con la loro estrema arroganza in cui ti prendono per un imbecille e pensano di sapere tutto quando invece alla fine sono estremamente inefficienti nel loro lavoro. Che veramente un ragazzino di 12 anni andando su internet, cercando su un forum TRT, trova un protocollo 100 volte più efficace in 30 secondi. E qua, boh, la malizia, no? Il pensar male sembra naturale. Dici, perché è così difficile in Italia riuscire a ottenere la prescrizione per un ormone bioidentico che può risolvere tantissimi problemi? Boh, è difficile non essere complottisti perché uno dice, qual è il motivo? Visto che dall'altra parte abbiamo magari ragazzine di 14 anni in piena età dello sviluppo che solamente perché hanno il ciclo un po' irregolare i dottori li lanciano addosso alla pillola anticoncezionale che è una castrazione chimica. Contiene una progestina sintetica. Una progestina che è un derivato sintetico del progesterone che è la stessa cosa che danno agli stupratori e ai pedofili in altri paesi in prigione, no? Dici, una ragazza solo perché ha il ciclo un po' irregolare le vai dare qualcosa che la castra letteralmente e le rovina in maniera forse anche permanente e irreversibile allo sviluppo e a te, uomo, che hai problemi reali sei stanco, perdi massa muscolare, massa ossea non riesci a più avere una libido sei depresso, eccetera il testosterone bioidentico che è 100.000 volte più salutare della pillola anticoncezionale e 100.000 volte meno pericoloso no, non te lo prescriveranno mai a pensare male si fa peccato ma si indovinano tanti dicono vogliono tenere maschi idevoli, eccetera, eccetera vai a sapere la risposta perché comunque ricordiamolo che se un eccesso di testosterone può avere effetti collaterali è vero anche che una deficienza di testosterone invece ha sempre effetti collaterali cioè, in parole più semplici se hai troppo testosterone questo può fare male o può anche non far male dipende se invece hai poco testosterone questo fa sempre male come cosa? ma veniamo a noi quello da fare è semplicemente rivolgersi a un dottore in un altro paese dell'Unione Europea in paesi in cui si sono più propensi a prescrivere questo ormone visto che per legge una ricetta di un dottore in un paese dell'Unione Europea vale in tutti i paesi dell'Unione per cui se noi ci rivolgiamo a un dottore in Grecia la sua ricetta vale anche in Italia e un'altra domanda è ci sono modi più veloci bla 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 e ovviamente ci sono modi più veloci ma qui stiamo parlando di legalmente acquistare qualcosa legalmente rispettando la legge se la vogliamo acquistare legalmente ci sono mille modi mille siti che non è neanche difficile trovare ma di cui io non vi darò il nome e non vi consiglierò anche se della verità sono corruttibile per cui se mi pagate mi iscrivete su Telegram ve lo potrei dire naturalmente sto scherzando comunque dicevo se uno vuole legalmente è facile farlo ed è anche più economico in questo video parlerò di come farlo legalmente rispettando la legge così che avete anche meno rischi e meno problemi oltre ad avere farmaci di qualità più elevata a maggior parte delle persone si sa che specialmente in Italia ma anche in paesi in cui è più facile ottenere la prescrizione vanno per vie legali perché ovviamente tutto in Italia nel sistema medico ti spinge verso quella parte perché se non puoi avere qualcosa legalmente l'alternativa cos'è? o passi la tua vita come uno zombie miserabile soffrendo tutti i giorni stando male o infrangi la lenge e compri prodotti sul mercato nero su qualche sito che comunque su Google saltano fuori subito per cui non è neanche troppo celata la cosa ma veniamo a noi qual è nella pratica il metodo da utilizzare semplicemente io adesso vi scriverò poi in descrizione l'indirizzo email di una farmacia in Grecia voi dovete scrivere a questa farmacia dire semplicemente buongiorno io vorrei acquistare da voi del testosterone iniettabile o la crema il testosterone però non ho la ricetta potreste consigliarmi un medico da cui fare la ricetta loro che naturalmente hanno anche l'interesse economico cioè vogliono vendere prodotti vi consiglieranno senza tanti problemi e gratuitamente un dottore a cui rivolgersi vi daranno il suo numero il suo indirizzo email o quello che è voi scrivete al dottore dovete fare un consulto qui dovete pagarlo il consulto ma di solito sono 50-60 euro e dovete mandare gli esami del sangue questo è importante perché il dottore gli chiede sempre come ripeto questo è il metodo legale fare il legale non serve l'onese del sangue non serve ricetta è più economico eccetera però questo è il metodo legale comunque dicevo il dottore vi chiederà gli esami del sangue voi dovete mandare gli esami del sangue e poi il dottore se vede che avete necessità di testosterone vi prescriverà il testosterone questa ricetta la mandate alla farmacia greca e acquistate quello che volete un giorno e vi arriva a casa è estremamente veloce come processo l'unica cosa che necessitate è come ho detto prima gli esami del sangue per cui dovete farli due abbastanza euro per poter comprare non è niente di troppo costoso e tre la conoscenza dell'inglese qui potete farvi aiutare da qualche amico no? perché ovviamente se parlate in italiano probabilmente faranno fatica anche se tanti greci parlano comunque italiano però scrivere in inglese è obbligatorio in questo caso voglio evitare di darvi un facsimile della frase in inglese perché se magari vedono che ci sono cento italiani che scrivono la stessa identica frase magari iniziano a sentire puzza di bruciato e non va bene comunque è tutto qui molto semplice spero in questo modo di aiutare tante persone che ne hanno bisogno a ottenere quello che vogliono a stare meglio senza infrangere la legge e senza magari mettere la propria salute in pericolo acquistando prodotti dal mercato nero che sono di più scarsa qualità e sono anche potenzialmente più pericolosi per la più alta concentrazione di solventi perché magari sono infetti o perché magari sono contaminati non con virus o a te ma con metalli pesanti o cose del genere e a questo punto farò un video un giorno raccontando la storia di quando comprai proprio sul mercato nero dei prodotti che risultarono alla fine contaminati e mi causarono un'infezione brutta col muscolo che mi si stava veramente deformando e con la testa che mi stava partendo perché avevo sonno ed ero senza energie tutto il giorno ma questa è una storia per un altro giorno per oggi non mi rimane che ricordarvi che quando si desidera ardentemente qualcosa essere avvolti dalle fiamme non è poi così male per l'email vi ricordo guardate in descrizione non c'è bisogno di richiederlo e noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti